Il 90% dei progetti sono partiti. La scommessa è tutta sulla capacità dei sindaci a spendere. A dirlo è l'ingegner Luigi Zinno, responsabile del procedimento e dirigente del settore programmazione economica della Regione Calabria. Per lui, infatti, il bicchiere è mezzo pieno. Se falliscono i PISL, la responsabilità è mia. Queste le dichiarazioni del braccio destro dell'ex assessore Giacomo Mancini. Nonostante i ritardi, difende infatti i 400 progetti che porteranno in questi mesi ad un aumento considerevole del PIL, trattandosi di opere infrastrutturali. L'iter è stato complesso perché i bandi sono stati fatti tra il 2011 e il 2012 e le convenzioni con i comuni a cui sono andati gli anticipi delle risorse sono state firmate nel 2013. La Regione continua ha raccolto oltre 800 progetti e selezionati quelli da finanziare in base a parametri stabili. Il 63% dei progetti, per un valore di circa 267 milioni, riguardano quindi le opere infrastrutturali, di cui 7 milioni di euro i servizi. Per il resto, circa 137 milioni, si tratta di regimi di aiuti, cioè sostegno alle attività economiche e finanziamento dei sistemi turistici. Sulla carta, quindi, non c'è dubbio che si tratta di una grande operazione di coinvolgimento delle amministrazioni locali, che però, osservando alcuni singoli progetti, si ha l'impressione di una grande operazione di finanziamento a pioggia, che poco incideranno sullo sviluppo locale.